Vediamo che succede, c'è la penalità massima come sempre in questi casi, sale la tensione. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto ma a volte è l'unica soluzione. Pronto a sfidare il portiere dagli 11 metri, la partita potrebbe sbloccarsi. 1-0 e sblocca lui! Ha mantenuto i nervi saldi freddissimo. Il rigore calciato centrale spesso inganna il portiere, non se lo aspetta quasi mai. E la partita inizia alla grande, subito gol! Circo nel corridoio giusto. Intervento folle in area di rigore. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. E il portiere farà di tutto, deve riuscire nel miracolo. Non sbaglia dal dischetto, freddissimo, pari già! Non ha sbagliato. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. E l'un군 è spento sol arist句. E l'uniba... E l'uniba... Ansoni è fredda. E l'uniba... E l'uniba... 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 E l'uniba... E l'uniba... E l'uniba... E l'uniba... E l'uniba... Grazie a tutti.